Ciao, sono Luciano, consulente linguistico di F-Education. Ti do il benvenuto in una serie di quattro video per spiegarti come vivere al meglio un'esperienza di studio all'estero, tramite testimonianze di studenti proprio come te e un tour virtuale. Posto che ogni studente, ogni ragazzo ha le proprie inclinazioni, le proprie passioni e soprattutto i propri tempi, ogni genitore vorrebbe il meglio per i propri figli in ogni ambito della vita, sia dal punto di vista delle relazioni, quindi dei rapporti umani, che anche dal punto di vista lavorativo. Ti racconterò la mia prima esperienza di vacanza studio all'estero, in prima superiore, in Inghilterra, quando di comune accordo con i miei genitori decisi di intraprendere questa strada. All'inizio, come è normale che sia, avevo le mie preoccupazioni, i miei dubbi, i miei timori. Una volta arrivato a destinazione, ogni giorno che passava, mi rendevo conto che ci mettevo sempre meno tempo a formulare una frase e soprattutto la mia fluency era nettamente migliorata. Da lì ho iniziato a effettuare altri viaggi, sia individuali che di gruppo, e successivamente, anche per motivi lavorativi, ho iniziato a viaggiare. Ad oggi, più di 10.000 studenti decidono di intraprendere vacanze studio con EF, quindi possiamo dire che è davvero una porta per il futuro, sia per non perdersi opportunità in ambito di amicizie e rapporti personali, sia da un punto di vista lavorativo. Infatti, al giorno d'oggi, la conoscenza approfondita di una lingua è, prerequisito, essenziale quasi per ogni tipo di lavoro. Vi invito a continuarmi a seguire nei prossimi video, dove vi racconterò perché una vacanza studio è la soluzione migliore e perché tutti decidono di partire con EF. Grazie. Grazie.